Sono responsabile del sequestro e della morte del piccolo Giuseppe Di Matteo che aveva 13 anni quando fu rapito e 15 quando fu ammazzato. Queste le parole di Giovanni Brusca in una delle sue dichiarazioni in cui forniva agli inquirenti una mappa generica dei suoi omicidi, più di un centinaio stando alle deposizioni dello stesso Brusca. Ma tra tutte quelle morti a suscitare maggiore sdegno è proprio quella del giovane Di Matteo, figlio del collaboratore di giustizia Santino, tra i primi a collaborare con Giovanni Falcone a designare una mappa aggiornata delle famiglie mafiose del palermitano. Non tanto il momento che portò poi alla morte il piccolo Di Matteo, ovvero convincere il padre a ritrattare la sua collaborazione, quanto l'atrocità del rapimento del ragazzino durato 25 mesi che poi finì strangolato e disciolto in una vasca di acido nitrico. Lunedì a San Giuseppe Iato a 20 anni dall'omicidio nel posto dove passò i suoi ultimi giorni di vita, da prigioniero adesso giardino della memoria, Giuseppe Di Matteo verrà ricordato con una manifestazione voluta dal coordinamento di libera e dal comune. Il programma della giornata tra le varie attività prevede la celebrazione di una messa in ricordo di tutti i bambini vittime della violenza. Una giornata dedicata al lutto e al ricordo di un innocente vittima delle atrocità dei mafiosi che arriva nei giorni della polemica contro i permessi premi e pentiti ed in particolare a quello di Giovanni Brusca che ha trascorso le festività di fine anno fuori dal carcere. Per il rapimento dell'omicidio di Giuseppe Di Matteo sono stati condannati all'ergastro oltre a Giovanni Brusca circa 100 mafiosi tra cui Leo Luca Bagarella, Gaspare Spatuzza e Matteo Messina Denaro.